La scuola al bivio, mercato o democrazia, riflessioni su professionalità e autonomia. Se ne è discusso nell'ambito del recente congresso regionale di Proteo Fare Sapere Molise. L'associazione da anni impegnata nell'attività di formazione indirizzata al mondo dell'insegnamento ha dibattuto presso la sede CGL del capoluogo di regione sul tema di stringente attualità che entra a pieno titolo nel dibattito politico di questi giorni. Il miglioramento del sistema scolastico in tutte le sue declinazioni è infatti uno dei punti cardine del programma del neocostituito governo a trazione PD 5 Stelle. In merito dall'associazione Proteo, in attesa del congresso nazionale, un contributo in termini di visione della nuova scuola italiana. Noi oggi facciamo un congresso nel quale vogliamo provare a rimettere al centro l'attenzione e l'importanza della scuola perché è avanzato un modello di scuola che guarda al mercato, il modello neoliberista, cioè formare non degli studenti consapevoli, dei cittadini consapevoli, ma invece formare dei consumatori, studenti consumatori che scimmiottano il mercato e invece non sanno orientarsi nella realtà che è sempre più complessa. Noi pensiamo che invece la scuola abbia un compito costituzionale molto importante di formare la coscienza civile e civica dei cittadini, consentire ai ragazzi di potersi orientare nella complessità del mondo. Per cui dobbiamo rifugire l'idea di mercato e andare verso l'idea invece di consapevolezza democratica. Su questi temi stiamo facendo delle proposte concrete di merito e pensiamo che possano essere importanti per rilanciare il valore della scuola pubblica, ma anche per mettere in evidenza un altro aspetto. In realtà come le nostre, queste decendrate molisane, nel quale si perdono mille alunni per ogni anno scolastico, se non mettiamo al centro dell'attenzione l'importanza dell'investimento nell'istruzione, noi siamo destinati a un lento ma inesorabile declino.